Il problema o il timore che abbiamo è che ci sia una specie di richiesta di traduare tutte le altre scritte delle altre lingue nella lingua che è adesso dominante del regime che si sono traduzili perché non è una specie di unire solo una lingua E' molto importante scrivere in tutte le lingue Ogni lingua, ogni persona scrive nella propria lingua è molto importante Chi usa il tigre, chi usa il tigrino, chi usa l'arabo Si può anche per le lingue non parlante creare un alfabeto e iniziare a fare una letteratura L'importante è accogliere e accettare questa diversità e considerarla una ricchezza Adesso c'è una specie di rinascita di movimenti della letteratura europea nella migrazione della diaspora Che stanno cercando di scrivere anche, soprattutto in arabo, di creare una letteratura europea Ci sono anche scrittori che scrivono in tigrino, operazioni molto interessanti Il problema è che siamo, come delle isole, siamo sparsi Non riusciamo a raccogliere o mettere insieme tutta questa produzione letterale Per creare una letteratura nazionale Dall'altra parte, anche questa è una cosa positiva, ovvero la scrittura della diaspora Perché comunque il momento in cui passiamo non durerà per sempre Un giorno ci sarà la possibilità di unire tutta questa produzione letteraria E capire o rendersi conto che c'è un patrimonio culturale letterario per l'Italia Una difficoltà che racconta il scrittore treo al di là della lingua E tenere in considerazione questa varietà della popolazione dell'Italia Ogni gruppo, ogni etnia o lingua mi scrivono a volte Pongono insomma le domande un po' infastiditi del nome di un personaggio Se rappresenta un po' la loro etnia e non piace al loro Per esempio, ho ricevuto delle domande in cui mi chiedevano perché hai dato il nome alla protagonista È un nome di una certa lingua, una certa etnia e non piuttosto di un'altra Perché questa amata si comporta in un certo modo che magari hanno una roba infastidisce o non piace Per questo chi leggerà questo romanzo forse non dirà che ci sono nomi che potrebbero riferire a varie appartenenze L'appartenenza dell'Italia E poi secondo loro che queste persone hanno un equilibrio Che sono insomma la bontà e la cattiveria Quindi sono quasi bilanciate da patta apposta per non dare fastidio a nessuno Non parlo anche dei temi o degli argomenti eccetera ma soprattutto dei nomi Perché loro già sono sensibili a sentire un nome che già rappresenta qualche etnia, qualche lingua E quindi bisogna avere molta attenzione Un altro problema che ha raccontato il scrittore di Teo è proprio il giudizio morale che si dà al libro Questo implica molto Io cerco sempre di non mettermi ad essere... ad affrontare questo problema e ad essere criticato Perché c'è questo aspetto, è una specie di censura Un'altra domanda che si pone è che chi è il mio lettore? Per chi scrivo io? Per gli arabi? Per gli elettrei? C'è una differenza tra questi due componenti? Il kitabla per gli elettrei? C'è un approfondimento maggiore nei dettagli? Il kitabla per gli arabi? Per gli arabi? E per gli egli eritori? C'è una specie di stato generale delle cose Per questo io nei miei testi e nella mia scrittura cerco di equilibrare questi due aspetti. Una domanda sui personaggi, ci sono una domanda che credo sia molto importante, un po' la provenienza. Nel romanzo c'è anche un personaggio italiano, una ragazza italiana, e volevo un po' chiedere a Gigiano da dove vengono questi personaggi, a cosa si ispira, come vi crea... Io credo che l'Eritrea, tutta l'Africa in generale, è una somma di un'europe, una somma di un'europe. È un luogo pieno di racconti che non ha ancora scopetti, insomma. L'edda, non ha detto che il capire, che il capire, che il capire, che non è stato ancora messo per scritto. È un grande patrimonio narrativo, orale, che non è stato ancora messo per scritto. Quali personaggi di Eritrea e che incontro è un progetto di un personaggio per i miei romanzi? L'erroani, ovviamente, è un personaggio grande e molto attento. Lo scrittore romanziero, lo scrittore romanzi, di sua natura, è una persona di una osservazione acuta e molto attenta, e cerchi di non fare attenzione e osservare tutto intorno. Questo non significa raccontare o trasmettere la realtà esattamente come è, ma c'è un lavoro dietro, con i mezzi, un lavoro di filtrazione per adattare tutti questi racconti orari a racconti o romanzi scritti. E' stato a mio favore il fatto che l'Eritrea comunque è una zona o un luogo oscuro per gli altri, cioè non ne sanno tanto. Questo è stato un punto a mio favore. Per quanto sia una cosa buona per me, per la scrittura, è intanto anche una responsabilità. E questo ci fa anche capire che è importante la varietà delle voci degli scrittori che esprimano ciò che è il vero. Non è possibile che i luoghi di luoghi non possono essere capire un uomo o una parola. Perché solo il scrittore non può esprimere, descrivere e dare l'immagine di una patria da solo. che lasciamo al pubblico. Se avete domande non vi metteranno. E' una domanda abbastanza ovvia, però ci ha dato tanti elementi, ci ha fornito tanti elementi per capire le motivazioni che l'hanno spinto a scrivere questo romanzo. Ma lui che cosa voleva dire con questo romanzo? Non l'ho letto, eh. Non l'ho letto pescare. Non l'ho letto, eh. Non l'ho letto, eh. Ma lui, la lho è la prima e la loro dimostrazione, non l'ho letto, eh. Non questo è,braube. Non l'ho letto, eh. Non l'ho letto sapere, eh. Seguimi, Situa, insomma, è un luogo, eh. La città, eh. La città e la l'ail, eh. E la città, eh. 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 grazie per la domanda che è molto importante io quando sono tornato dall'Efria sono tornato carico di molte cose che non posso poter esprimere se non con la scrittura per questo che è il mio primo il mio primo romanzo è stata una specie di autobiografia a partire dal secondo romanzo il lavoro è diventato una specie di progetto un mio progetto di vita ma senza perdere questa spinta interiore spesso mi chiedo cosa avrei fatto o come avrei fatto se il primo romanzo fosse stato ignorato avrei continuato a scrivere il mio primo romanzo ha vinto un premio abbastanza importante nel mondo arabo e questo mi ha messo sotto gli lettori e mi ha presentato come scrittore dei romanzi e questo mi ha presentato come scrittura dei romanzi e questi mondi paralleli in cui mi trovo o in cui mi metto la scrittura dei romanzi io mi trasporto quasi nella vita reale in cui non posso fare niente non posso decidere tanto mentre nel romanzo io divento quasi un creatore posso decidere dei destini posso creare un mondo parallelo non riesco a tornare la mia vita quotidiana normale se non dopo aver scritto l'ultima parola dell'omanzo e tutto questo percorso questo sentimento della creazione mi accompagna c'è un altro discorso importante sul fatto di scrivere su argomenti leggeri che non hanno grande senso oppure su argomenti duri e severi che sono quelli che ho tratto io nei miei romanzi la questione sviluppa è andata oltre la mia passione e la mia voglia di scrivere di esprimere a diventare un progetto per quello che è il disastro o il problema del popolo l'Italia per mettere sotto la luce sui lettori questa questione regionale io non pretendo di cambiare la situazione con il romanzo non è che si può fare questo con il romanzo però già parlare o creare immagini o immaginazioni su questa questione su questo problema mi può rendere soddisfatto del mio lavoro e del mio ruolo ho scoperto durante il mio percorso di scrittura che il romanzo è il mezzo migliore per portare o per trasmettere l'informazione per esempio sull'etrea per dare un'immagine anche a persone che non conoscono o che non sanno niente dell'etrea il romanzo ha questa velocità di dare questa immagine grazie vorrei dire una riflessione per capire il discorso della diaspora che non riesce a costruire delle attività economiche nel contesto delle imprese la rete della diaspora del mundo che nasce dal progetto che uno è spinto all'aziale del paese per costruirsi delle reti ricordo che è venuto al quarto paese per costruire della città questo mi sentite capire prima parlava di un progetto culturale letterario non economico vorreste dire no io osservazione ma qui non è la seconda del paese che accennava questo tipo di risposto non credo non capivo per quale motivo non si costruisce nel proprio paese nella realtà di nuovo la diaspora nel proprio paese sì cioè delle messe quando uno va con l'immigrazione a un certo punto cominciano delle messe i progetti di cooperazione i progetti di sviluppi nel proprio paese quindi ci sono detto che questo non succede nefis di giustizia cerchi di una salvezza personale questo su cui ho lavorato nel mio ultimo romanzo non è necessario non è come dire fondamentale che chi subisce una difficoltà può anche avere empatia con gli altri che subiscono la stessa cosa io parlo in generale ma di solito questo pensiero della salvezza personale di mettersi in salvo domina il pensiero dell'essere umano per questo anche dopo essersi salvato rimane in questo contesto della salvezza personale quindi è difficile per lui inserirsi in un contesto